Ora che il Governo ha stanziato 70 milioni di euro per gli incentivi sull'acquisto dell'auto elettrica o ibrida, può prendere in largo il progetto del Comune di Napoli di dare vita a una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale, in linea con lo spirito delle zone a traffico limitato. Va letta in quest'ottica l'Idei, la giornata dedicata alla mobilità elettrica, organizzata da Anea, l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, e che si svolta questa mattina nella sede dell'Istituto Motori CNR di Napoli. L'iniziativa ha previsto un seminario sull'argomento e un test drive tra un'auto elettrica e una benzina. A introdurre il dibattito il direttore del CNR, Paola Berardini. Questa giornata nasce dalla volontà che l'Istituto ha una tradizione consolidata nel campo dei motori a combustione interna, cioè per capirci quelli che vanno a combustibili fossili. Ma dati i tempi è necessario traslare verso mobilità diverse e abbiamo già preso molte iniziative, abbiamo molti progetti, molti finanziamenti al riguardo e contiamo di andare avanti e da qui questa giornata che ha il merito di mettere assieme operatori della ricerca, enti di governo del territorio e investitori privati. Insieme al presidente di Anea, Michele Macaluso, presenta l'iniziativa all'assessore alla viabilità del Comune di Napoli, Anna Donati, che spiega le intenzioni del Comune per favorire la diffusione delle auto elettriche in città. Mi daremo il massimo di pubblicità perché gli incentivi all'auto pulita anche a Napoli trovino cittadini interessati.